Noi speriamo che lo Stato e le regioni si rendano conto di quello che avviene alla base nelle periferie dove noi siamo e che possano aiutarci a sostenere questi costi. Noi non vogliamo assolutamente penalizzare le famiglie, però capita quando andiamo a mangiare la pizza, quando andiamo al distributore, voglio dire che il cittadino è l'ultimo che paga il conto. Aumentare le rette sarà l'extrema razio, ma Giorgio Pavan, direttore dell'Isra, non può escluderlo. Tra caro bollette e maggiori costi per il personale, l'autunno sarà davvero nero. Abbiamo un contratto Consip bloccato per due anni, però scadono a settembre e quindi a settembre ci saranno fortissimi rincari e dobbiamo quindi riorganizzare il bilancio. Dopo tutti i servizi, per dire la lavanderia, ha avuto aumenti di produzione molto importanti, i trasporti. Noi andiamo ad assistere un migliaio di persone a domicilio con le automobili, proviamo a pensare che cosa può significare da un punto di vista dell'aumento dei costi. Se a questo si aggiunge il fatto che le IPAB non possono scaricare l'IVA, è evidente che il caro bolletta rischi di travolgere i bisogni primari di assistenza. Le ricadute sono sia private che collettive, soprattutto se le problematiche si protrarranno per altri mesi. Ci saranno due soggetti fragili. Uno è proprio la famiglia che non può più permettersi di pagare una retta aumentata e l'altro sono i comuni perché quando le famiglie non ce la fanno a pagare le rette dei propri anziani, lo Stato, la Costituzione, prevede che in casi di povertà, che è in aumento, siano i comuni con la tassazione generale a sostenere questi costi. Vista la situazione, lo stesso Pavan abbandona ogni diplomazia. Il messaggio è diretto. L'appello è che si apra gli occhi una volta per tutte su questa realtà. È una realtà che è assistita con grande precarietà perché non troviamo nel mercato né infermieri, né operatori, né medici. Quindi i prezzi aumentano e dall'altra parte c'è bisogno di una maggiore assistenza.